è originario dell'aquilano ma vive e lavora ormai da tempo a roma si tratta di giustino de santis pittore che ama confrontarsi anche con la poesia già noto ed apprezzato a livello nazionale l'artista ha deciso di far tappa cremona per far conoscere anche al pubblico locale gli sviluppi della sua ricerca pittorica de santis ha messo appunto una pittura che si basa sui moduli interpretativi che sono nello stesso tempo unici universale ha osservato il critico d'arte bresciano gianluigi guarnieri nel corso della presentazione della mostra nelle sale d'immagini spazio arte in via beltrami ad un passo dal torrazzo hanno trovato posto una ventina di composizioni che consentono di penetrare nello spirito della pittura modulare dell'artista romano tutte le cose sono non sono né brutte né belle sono soltanto e quanto afferma lo stesso de santis rileggendo la sua pittura come un iconogramma universale che consente di cogliere il tutto nel finito la sua pittura è anche una proposta di ordine una realtà nella quale i fenomeni si sovrappongono gli uni agli altri rendendo difficile l'uomo coglierne il senso gli stessi colori sempre vivaci sono pensati appositamente all'artista romano per dare un quadro unitario ai vari moduli interpretativi e stimolare l'attenzione dello spettatore la personale di giustino de santis resterà a disposizione del pubblico cremonese nei locali di immagini e spazio arte di via beltrami fino a sabato 6 aprile spazio arte di notizia Grazie a tutti